Adesso, quello che ha passato? No, ora fanno del pallone Ma sai che non ti passava, chissà che a te niente lei Tu hai messo lei Ma, reggia, torna a destra Ma io già l'ho giocistato Eh, torna a destra Zio Lucio è passato Ma in italiano un bacchio come si chiama? Non è la stessa cosa Ma Zio Lucio, non ci hai dato la carta? No, ha messo lei No, ha messo Ah, spero non vedo, non vedo, non è successo niente Ah, su Tu non ti preoccupare Ma l'ho fottuto tutto E perchè tu non ti hai fatto pasta? E me perchè metti la piglia a fare? Ma questo è successo Se lo riesci E' tanto Io ti hai chiesto la carta mia Ma l'hai rubato Non mangiai sia Ma quando siamo 3? Non puoi spartare Sono un tonnetto, vai Mamma mia E' malattiempa proprio Questa è una morte Ma sono tornata da me su Ma già l'avete qua Per esempio Non è la festa E' adesso E' adesso E' adesso Ma non puoi spartare? E' No, non puoi spartare E' tu è E' tu è E' tu E' tu è E' tu e mi ha spazio di tutto il sole di Sparta ma devi prima pagare però non devi pagare ma devi pagare ma non devi pagare e che fai? 28 25 25 25 28 ma che sono tutto fatto? 2 euro e mi devi pagare e papà manca un euro 2 euro qua 2 euro qua e tu non mi ha spazio con il bandone non mi ha spazio di tutto non mi ha spazio di tutto c'è pure questo, i giovani che dici e te hai formato le prime perciò, tu mi hai spazio di tutto ma tu mi hai spazio di tutto ma tu mi hai spazio di tutto